Buongiorno Giovanni, cosa pensi di questa nuova società a Savoia? Ma io la prima cosa che voglio dire è che Torranuziata è sempre un popolo strano, però io per Torranuziata ci tengo molto. Adesso o facciamo la quarta serie o la serie A o la serie B, i presidenti per me, tutti quelli che vengono sono tutti ben accettati. Io sono un Savoialto, ci ho lavorato negli stadi, sono contento di questa società, a noi non ci interessa, possiamo anche fare la prima attività. Basta che ci fanno prima o parlare, a me non mi interessa, i presidenti per me sono tutti quanti uguali, quelli che vengono da fuori sono sempre ben accettati. Io sono un Savoialto, forza Savoia e andiamo avanti. Non c'ho niente altro, voglio soltanto salutare i presidenti nuovi, anche il dottore Mattacchioli che mi conosce. Dottore, tenetemi presente, io per lo stadio faccio tutto, perché il dottore, come ho conosciuto allora, mi pagava e tutti i presidenti che sono venuti mi hanno sempre pagato. Forza Savoia, forza Tornaluziano e forza la tifoseria e nient'altro. Non c'ho nient'altro da dire, speriamo che facciamo un buon campionato.